Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo nello Svaziland Ieri notte abbiamo dormito in questi fantastici bungalow a forma di capanna Ma la cosa più interessante è capire l'entrata Guardate, adesso l'anelle vi mostra come facciamo noi per entrare Guardate, si entra, ne è rimesso, e qui ci sono i letti Un posto fantastico No, non è neanche male dentro, solo che bisogna spaccarci la schiena per entrare No, è simpatico Le porta un po' piccoline le entrate E chiaramente non si riesce a chiudere Di sopra è ben aperto, è ben open space Per fare in modo che se qualche animaletto durante la notte abbia voglia di farci compagnia Guardate come si entra Però è tutto molto bello È tutto molto tipico loro Oggi è una bella giornata Ho fatto una bella colazione con muesli, miele e graniglie varie Una bella bottiglia di acqua Adesso abbiamo fatto un pit stop e siamo pronti per ripartire per Manzini Che bel posto, eh? L'anella non è stata molto soddisfatta Fino a questo punto dello Svasiland Perché siamo entrati al confine con Sudafrica E praticamente abbiamo fatto 70 km in sterrato Con gente che ci correva dietro per chiederci un passaggio Perché adesso abbiamo affittato una macchina Abbiamo affittato una R-Logan E niente, dai Vi faremo sapere come procede Il nostro viaggio, va bene? Ciao!